Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa ottantesima puntata del podcast di Marcos Box. Torniamo per parlare di Ubuntu e di Lenovo. Lenovo ha annunciato l'espansione del suo programma Linux volta a offrire Ubuntu Desktop 20.04 preinstallato sui suoi ThinkPad e PC ThinkStation. Entrambe le gambe di prodotti possono essere ora acquistate a livello globale con Ubuntu preinstallato. Attualmente i modelli certificati per Ubuntu 20.04 sono ben 30, incluso il popolare X1. Per questi prodotti Lenovo introduce sia il supporto web e telefonico end-to-end per tutti quanti i problemi relativi alla piattaforma, quindi supporto comprito. I dispositivi ThinkPad e ThinkStation saranno disponibili a livello globale a partire da settembre 2020 e verranno implementati in fasi con scaglioni successivi fino al 2021. Su Marcos Box trovate maggiori informazioni e trovate anche la lista dei modelli compatibili. Restando a parlare di Ubuntu c'è una notizia che mi ha fatto piacere questa settimana e riguarda il tema di LibreOffice che su Ubuntu 20.10 potrà beneficiare di un nuovo stile di icone Yaru. Sì, avete capito bene, il stile di icone predefinito, preinstallato su Ubuntu 20.10 per LibreOffice è a tema Yaru, quindi si integra perfettamente con le icone di sistema, un po' come in passato accadeva con le vecchie versioni di Ubuntu. Su Marcos Box trovate qualche screenshot che vi illustra questa novità. Torniamo a parlare di Microsoft Edge per Linux. Vi avevo parlato nelle scorse puntate, la scorsa settimana, del rilascio ormai imminente di Microsoft Edge per Linux che è previsto per il mese di ottobre. In quella fase iniziale c'erano alcuni dubbi riguardanti il sistema di distribuzione di Microsoft Edge per Linux. Bene, questa settimana c'è stato un chiarimento da parte del team che sviluppa Microsoft Edge per Linux sul sito ufficiale Microsoft Tech Community e che ha fatto appunto luce su alcuni dubbi che erano emersi. La prima riguarda i pacchetti DEB e RPM. Per il lancio iniziale il team prevede il supporto ufficiale per Ubuntu, Debian, Fedora e OpenSource. Quindi verranno rilasciati pacchetti in formato DEB ed RPM compatibili con questa distribuzione. Niente snap, quindi come avevo ipotizzato al lancio di Microsoft Edge, poco male perché anche molti utenti preferiscono utilizzare i pacchetti DEB e RPM quanto possibile. Questo però comunque non esclude che venga utilizzato lo stesso sistema che è stato utilizzato da Microsoft anche per Visual Studio Code. Visual Studio Code, come ben sapete, è stato rilasciato inizialmente nei formati DEB ed RPM e successivamente Microsoft ha rilasciato lo snap ufficiale che continua a mantenere aggiornato. Altra caratteristica che contraddistinguerà questa prima versione di Microsoft Edge per Linux è la mancanza di alcune funzionalità. Perché al lancio la versione per Linux non godrà di alcune funzionalità anche molto utili che sono presenti sulla versione Windows come per esempio la sincronizzazione, quindi tutti quanti i servizi collegati, la lettura ad altavoce e gli aggiornamenti differenziali. Il team comunque di sviluppo di Microsoft Edge per Linux ha fatto sapere che sta lavorando solo per portare queste funzionalità il più rapidamente possibile, assicurandosi al tempo stesso che siano implementate correttamente e senza problemi. Diversi utenti Linux hanno alcune remore riguardo anti-installazione di D-Pin Linux. I motivi sono vari, ma ne possiamo trovare principalmente due. Il primo riguarda il fatto che la base Debian non consente aggiornamenti rapidi, l'altro riguarda alcuni dubbi circa livelli di privacy della distribuzione cinese. Parall'altro sono comunque notizie che sono state ampiamente smentite su Marcosbox, trovate degli articoli a riguardo. Il fatto sta che molti utenti, nonostante siano attratti da D-Pin Desktop Environment, quindi D-Pin Linux, nonostante lo bramino, lo desiderino, non lo provano per questi suscitati motivi. Bene, sappiate che adesso avete però uno strumento in più, uno strumento che vi aiuterà nel provare D-Pin Desktop Environment. Perché è stata rilasciata una nuova community release di Manjaro Linux, sono praticamente le edizioni di Manjaro Linux mantenute dalla community, che, guarda caso, questa nuova release introduce l'ultima versione di D-Pin Desktop su base Manjaro 20.01 Mica, quindi l'ultima edizione di Manjaro. Questo significa che tutti quanti gli amanti di D-Pin Desktop potranno beneficiare dell'ultima versione di D-Pin Desktop Environment unita alla base di Manjaro, che garantisce aggiornamenti per gli applicativi e quant'altro. Quindi, se volete provare D-Pin Desktop Environment con l'edizione Community di Manjaro Linux, potete dargli uno sguardo, potete testarla, e potete apprezzare questo D-Pin Desktop Environment particolare. L'ultima notizia di questa settimana riguarda una guida che Luca ha postato sulle pagine di Marcosbox riguardante Nautilus e il limite della dimensione delle thumbnail. Nautilus, il file manager di Gnome, per impostazione predefinita, non genera le thumbnail se l'immagine è più grande di 10 MB. A giorno d'oggi questo limite sta un po' stretto perché molto spesso i vari smartphone e quant'altro generano immagini ben più grandi. Quindi, sulla guida postata da Luca, c'è un trucchetto che spiega come aumentare all'interno delle preferenze di Nautilus questo limite. Quindi, perché portatelo a 30 MB, a 50 MB, come volete voi. Ovviamente, più grande è, più immagini pesanti avete, più questo va a impattare sulla visualizzazione delle cartelle, delle immagini all'interno delle cartelle. Quindi, regolatevi voi di conseguenza con le dimensioni. Comunque, un buon limite, ad esempio, è quello di impostare un 30 MB. All'interno del posto, poi, trovate anche un suo piccolo consiglio che spiega come ridurre, da terminare, la dimensione delle, il peso, diciamo così, delle immagini. Bene, ecco, con questa ultima notizia concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao! Ciao!